Bande di ragazzi che tengono in ostaggio i commercianti del centro storico di via mercanti e in modo particolare in via Roma a Salerno. È una banda di minorenni che soprattutto di sera dalle ore 19 alle 20 prende di mira le vetrine danneggiandole con qualsiasi oggetto e seminando panico tra i clienti utilizzando in alcuni casi anche armi giocattolo. Nonostante l'annunciata intensificazione dei controlli in città da parte delle forze dell'ordine per prevenire atti di microcriminalità il presidente delle associazioni mercanti del centro storico Antonio Ventre è preoccupato per gli episodi violenti che continuano a ripetersi nonostante ci sia la denuncia presentata ai carabinieri del titolare di un negozio di calzature di via Roma e tanto di immagini dove risultano ripresi i giovani in azione. Più di un mese che abbiamo segnalato insieme a chi ha subito gli effettivi danni la presenza di una banda di ragazzi per esempio ovviamente locali quindi niente di importazione che prende di mira alcuni negozi danneggiando le vetrine mettendo in fuga a volte anche i clienti ahimè purtroppo anche girano a volte con delle armi giocattolo che è un po' inquietante perché se qualche poliziotto vede un'arma giocattolo potrebbe capire una cosa per un'altra. Non si può parlare di criminalità assolutamente non c'è nessuna larga di criminalità è un fastidio ed è una banda di ragazzi misti ragazzi e ragazze minorenni che fanno delle scorribande al centro storico abbiamo registrato qualche evento ma anche in via i mercanti ma ultimamente la zona Bersagliate è via Roma e il titolare di un'attività della zona casa della pantofola ha esposto una regolare denuncia ai carabiniti più di 15 giorni fa addirittura corredata da un video fatto da lui quindi riprendendo queste persone che incappucciate fanno queste scorribande e però a tutt'oggi i risultati non se ne sono visti ieri si è ripetuta il fatto increscioso mettendo in fuga dei clienti che erano all'interno del negozio vuol dire a parte il cliente che va via c'è uno stato d'animo poco sereno basterebbe come chiediamo da oltre 5-6 anni più presenza nel centro storico di divise di persone del turde dell'ordine che vanno in giro noi questa segnalazione è stata fatta più di 15 giorni fa ai carabinieri la denuncia è stata esposta ai carabinieri la segnalazione è stata fatta anche alla polizia ai vigili urbani però ripeto finora risultati non ce ne sono stati basterebbe davvero poco perché non parliamo di delinquenza organizzata parliamo di una banda di ragazzini che metta su quadro i negozi a volte anche rubando qualcosina basterebbe poco per mettere fine a questo problema episodi simili si sono verificati anche in via mercanti in alcuni negozi addirittura hanno portato via anche genere alimentari sì 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 piccole cose però che non dovrebbero succedere in nessuna zona della città tantomeno al centro storico dove in questi giorni abbiamo una massiva presenza di turisti un evento del genere non mette a serenità l'auspicio è che le forze dell'ordine in modo particolare i carabinieri che hanno raccolto la denuncia di questo esercente tra l'altro ci sono anche delle immagini si potrebbe risalire insomma ai responsabili di questi episodi sì ma a parte le immagini che temerariamente il nostro collega ha rilevato ci sono anche le segreme di sicurezza quindi volendo si può tracciare un po' il percorso di questa banda dei ragazzini che ripeto non sarà criminalità organizzata ma comunque dà fastidio noi dobbiamo lavorare in tutta serenità il gestore di questo negozio è una persona di una certa età che non si sente più sicura addirittura qualche giorno evita di venire ad aprire perché puntualmente dalla sera dalle 7 alle 8 quindi questi eventi succedono una fascia d'orario già segnalata non dovrebbe essere difficile mettere fine grazie a tutti